ciao a tutti ragazzi in questo nuovo video tutorial vi farò vedere come pulire una ps4 slim vi servirà un pennello non troppo duro e due specifici cacciaviti se volete vi lascerò il link per acquistare il kit che ho acquistato io bene adesso dobbiamo rimuovere come prima cosa la placca superiore in questo modo prima bisogna usare a destra e poi a sinistra adesso armiamoci un cacciavite a croce ph 1 e andiamo a svitare tutte queste viti adesso prendiamo una chiavetta torx da 9 con il buco centrale perché con il buco centrale perché queste viti altrimenti con una torx normale non riusciremo a svitare perché ha il perno centrale fate attenzione a questo punto ragazzi perché le vedi in questione hanno delle misure diverse ci sono due più lunghe e una più corta come potete vedere io vi consiglierei anche successivamente di separare step by step tutte le viti anche perché le prossime che andremo a svitare sono ancora diverse dalle prime che abbiamo svitato bene adesso riprendiamo il nostro cacciavite ph 1 per andare a svitare queste ultime 5 viti che servirà per levare il coperchio che copre la ventola adesso bisogna tirare questa placca verso l'esterno ma con estrema attenzione perché c'è un filo saldato adesso quindi arrivati a questo punto dobbiamo fare molta attenzione perché dobbiamo sollevare la plastica nera in questione è un passaggio molto delicato sollevandola delicatamente il più possibile andremo a fare pressione con l'indice e con il pollice ad alzare fino a sbloccare la placca in metallo vedete adesso proviamo a sollevare un po di più la plastica e a tirare verso l'esterno sempre delicatamente bene adesso possiamo accingerci alla pulizia della ps4 io vi consiglierei di stare all'esterno e di usare un compressore ma se come nel mio caso non avete un compressore state dentro casa di usare un pennello non avete un po' di più a questo punto se non abbiamo un complessore e saremo dentro casa purtroppo dovremmo soffiare e potrete incorrere in questo piccolo problema andremo a pulire con il pennello anche le porte usb e poi purtroppo dovremmo soffiare anche quelle e poi andremo a pulire anche la griglia laterale dove entra l'aria che va alla ventola quindi adesso che la nostra playstation è completamente pulita andremo a rimontare il tutto e questo è il passaggio più delicato sempre molto delicatamente dovremo sollevare la plastica nera dalla sinistra al centro in questo modo per poter incastrare il coperchio come era prima spingendo indietro una volta che vedremo tutti i buchi delle viti allineati con il coperchio sapremo che l'abbiamo messo perfettamente in questo modo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.